Migliaia di presenze sia nella zona orientale sia al centro. La Cidec di Salerno traccia un bilancio più che positivo della Notte Bianca che ha visto tanti artisti esibirsi in città. Da Loredana Bertè a Tullio De Piscopo, passando per il Giardino dei Semplici a Tonitammaro solo per citarne alcuni. Per il direttore Mario Arciuolo uno sforzo è andato a buon fine, con una considerazione. Il prossimo anno, oltre ai grandi nomi, si impunterà ancora di più sugli artisti salernitani. Il bilancio è sotto gli occhi di tutti, di tutta la città di Salerno. Abbiamo avuto due giorni meravigliosi, tanta gente, la visita del governatore. Voglio precisare che non è vero il fatto dei fischi, anche perché il governatore era salito sul palco insieme a Tullio De Piscopo e poi è ritornato dopo due ore e mezza per ascoltare il concerto di Tonitammaro. E poi l'apoteosi l'abbiamo avuta con Loredana Bertè a Piazza Portanoma, dove c'è stata veramente una quantità di persone. Noi abbiamo dovuto fare fronte, dopo i fatti di Torino, ad un piano di sicurezza e di evacuazione. E devo fare un plauso non solo all'ingegnere Rizzo di Avellino, ma anche alle forze dell'ordine. Torino era una scommessa per tutti, perché da più parte ci venivano segnalati la presenza di artisti salenitani, di giovani emergenti. Quindi abbiamo voluto dare un input a questi ragazzi che se lo sono cavati molto bene. Soltanto purtroppo lì c'è stata poca affluenza, perché come sempre ci vuole il personaggio, ci vuole il nome. E su questo siamo convinti che ci rifaremo l'anno prossimo.